bene grazie e buonasera quando ci si è incontrati quindici giorni fa si è ragionato sulla crisi della democrazia rappresentativa e in modo particolare sul passaggio di titolarità di poteri almeno così viene percepito dall'assemblea elettiva dei consigli comunali e dei consigli regionali verso la dimensione esecutiva incarnata dal presidente della regione dal sindaco del comune dalle giunte da loro nominate e eh si ragionava appunto di una opzione praticata anche attraverso leggi di riforma istituzionale che ha privilegiato la governabilità quindi la riduzione ad unum del momento decisionale rispetto al momento della rappresentanza in quell'occasione proponevo una riflessione secondo la quale non sono gli strumenti soltanto a determinare il clima in quel caso il clima del rapporto tra momento decisionale e momento di partecipazione popolare non sono quindi soltanto gli strumenti di riforma istituzionale ma è una tematica più generale che riguarda l'adesione la partecipazione il senso alla politica e per me vale lo stesso ragionamento anche in questo secondo incontro nel quale ci si dedica maggiormente a individuare gli strumenti di partecipazione popolare per come definiti negli statuti delle diverse amministrazioni o per come definiti nelle legislazioni delle regioni si è preso ad esempio nell'invito per questa sera quanto previsto dallo statuto del consiglio comunale di torino che alla voce partecipazione popolare individua un elenco di strumenti praticabili con diversi livelli di complessità per mettere in atto questi stessi strumenti e diversi livelli di efficacia delle conseguenze delle pratiche partecipative quindi io li citerò non tanto perché siano esemplari da riproporre come iniziativa dei consiglieri di modifica o di integrazione degli statuti quanto piuttosto per dire che la casistica delle opzioni è molto ampia li cito semplicemente per nostra memoria andiamo dall'istanza che è il livello più semplice che può essere praticato anche da cittadini singoli o più cittadini e come dice la parola avanza una richiesta e evidentemente la richiesta deve trovare la disponibilità di un riscontro da parte dell'interlocutore interlocutore istituzionale alla petizione che invece prevede l'adesione di 300 persone che abbiano compiuto 16 anni di età e che individua o il momento della problematica quindi avanza e segnala un contesto che sembrerebbe non essere stato indagato a sufficienza da parte degli organi esecutivi e da parte degli organi consigliari o viceversa avanza delle ipotesi di soluzione ai problemi alla delibera di iniziativa popolare dove quindi lo strumento di proposizione già strutturato in una forma di carattere potenzialmente esecutivo è in mano alla potestà dei cittadini che con la raccolta di 1500 firme possono avanzare quindi uno strumento che individua già delle possibili soluzioni rispetto degli obiettivi determinati che però sottoposto all'approvazione e quindi a sua volta prevede una disponibilità nella relazione con il consiglio stesso al referendum che si può articolare in consultivo abrogativo o propositivo e a seconda delle modalità prevede sia delle partecipazioni alla sottoscrizione ma sia delle funzioni attive del consiglio comunale quello consultivo prevede che sia approvato dalla maggioranza assoluta del consiglio comunale quindi gli strumenti apparentemente sono ampi articolati pretendono un'attivazione del corpo sociale e pretendono una relazione favorevole o di mediazione sulla quale concordare da parte dell'interlocutore istituzionale questo fatto che abbiamo esemplificato attraverso lo statuto del consiglio comunale di torino non è evidentemente un'esperienza isolata è praticata in moltissime altre amministrazioni comunali e bisogna riconoscere e della ragione per la quale io insisterò sul fatto che non sono solo gli strumenti il problema bisogna riconoscere che nelle regolamentazioni più contemporanee c'è una progressiva comparsa di forme sempre più volte a ricercare la partecipazione della cittadinanza o degli stakeholders come si dice attualmente quindi portatori di interesse diversamente rappresentati in forma organizzata per fare in modo che il processo decisionale possa arricchire le forme della democrazia rappresentativa e quindi pervenire a delle decisioni che siano il più largamente conosciute e condivise possibili esiste quindi un'apparente volontà politico istituzionale del resto non si tratta soltanto di praticare una positiva volontà si tratta anche di essere coerenti con una normativa generale che dell'aspetto della partecipazione ha fatto strumenti di legislazione atti di indirizzo raccomandazioni di varia natura chi volesse percorrere una ricerca in questi strumenti può ritrovarli ad esempio dal livello europeo a livello nazionale ai livelli regionali io ne citerò alcuni semplicemente per dare il quadro di quanto articolata e potenzialmente favorevole sia la strumentazione di carattere normativo allora partendo ad esempio dalla dimensione europea il libro bianco sulla governance europea introduce la partecipazione e il coinvolgimento come strumento appunto di arrettimento della democrazia rappresentativa ma non soltanto il libro bianco sulla governance europea il trattato di lisbona che forse è più conosciuto eh richiamato nella memoria di molti di noi introduce alcuni concetti fondamentali uno la valorizzazione della prossimità all'articolo dieci l'altro il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni paragrafi uno e due il terzo il diritto di iniziativa all'articolo undici quindi addirittura il livello europeo presuppone la possibilità sia pure su un'ampia platea di proponenti di interpellare direttamente le la commissione europea a fronte di tematiche specifiche su diverse materie ma ancora i vari regolamenti comunitari dell'unione europea sui fondi strutturali questi hanno fondamentalmente introdotto un cambiamento nelle caratteristiche della programmazione della progettazione su scala regionale su scala locale perché volutamente nella direzione dei finanziamenti hanno posto come requisito di ammissibilità e come criterio di migliore valutazione proprio la tematica dei percorsi partecipativi introdotti dai diversi soggetti attuatori nell'arricchire ad esempio un programma di rigenerazione urbana dove il tema della partecipazione dei cittadini interessati viene considerato non un optional non un valore aggiunto ma una condizione sine qua non per la valutazione dei progetti stessi fino a arrivare al principio di sussidiarietà introdotto nel diritto comunitario nel trattato dell'unione europea principio di sussidiarietà che peraltro è richiamato e veniamo quindi al non ce lo chiede l'europa ma ce lo dicono la costituzione le leggi dello stato italiano veniamo quindi al modo con il quale la normativa nazionale ha previsto e introdotto i criteri della partecipazione popolare alcuni esempi di materie differenti che ci spiegano come questo sia un fil rouge ritenuto desiderabile necessario all'interno delle legislazioni nazionali vanno dal terzo piano di azione nazionale del duemiladiciassette linee guida per la consultazione in italia a quelle della piattaforma partecipa del duemiladiciannove in cui avendo istituito la piattaforma partecipa per consultazioni su scala nazionale sono stati coinvolti circa quindicimila soggetti quindi il piano nazionale proponente lo strumento della partecipazione esiste viene indicato nei riferimenti che ho fatto in termini generali ma poi viene ancora puntualizzato in moltissime altre normative di settore cito ad esempio le normative che riguardano tutto il comparto delle leggi anticorruzione dove ad esempio le forme di consultazione dei cittadini vengono introdotte come strumento di controllo vigilanza e prevenzione dei fenomeni corruttivi quindi la normativa italiana è una normativa molto ricca e soprattutto trasversale che come dicevo individua un uno scenario da praticarsi attraverso quei riferimenti che ho appena fatto alle linee guida per le consultazioni fino a dettagli di legislazioni di settore di cui ad esempio quella delle opere pubbliche insieme a quello delle normative anticorruzione è un comparto rilevante l'introduzione in Italia nel 2018 del debattito pubblico sulle grandi opere è ad esempio uno degli elementi che sono sul piano dell'impianto teorico e della raccomandazione alla pratica sicuramente molto condivisibili partendo dal principio che il nostro stato nella costituzione introduce lo stesso criterio della sussidiarietà che veniva richiamato precedentemente nella normativa europea ad esempio il criterio della sussidiarietà all'articolo 1818 è il riferimento eh diciamo nazionale nostrano del principio di di sussidiarietà europeo ma tutte le normative costituzionali prevedono strumenti di democrazia diretta le petizioni le leggi di iniziativa popolare il referendum sto parlando in un contesto in cui il referendum è stato praticato in modo favorevole rispetto alla questione dell'acqua pubblica ma anche gli strumenti della petizione che peraltro non avrebbe vincoli numerici di presentazione possono essere perseguiti in sensi delle normative nazionali si pensi ad esempio al ricorso alla petizione a Napoli rispetto alla tematica dei rifiuti ma le stesse leggi di iniziativa popolare dove però l'aspetto che torna ugualmente alle delibere di iniziativa popolare è quella della necessità di riconoscere e cercare il consenso dell'assemblea in quel caso legislativa parlamentare quindi abbiamo una ricchissima possibilità di percorsi a cui si aggiungono accanto a quelli definiti normativamente per legge quelli che possono essere attivati su base volontaria da parte delle diverse amministrazioni e io ne citerò soltanto alcuni ad esempio l'agenda ventuno l'agenda ventuno che è una questione molto vicina alle sensibilità contemporanee quindi ambientali è una modalità di costruzione della programmazione che introduce il criterio della partecipazione i laboratori di urbanistica tutta la casistica il glossario a cui assistiamo in questi tempi relativamente ai temi della rigenerazione urbana pensiamo ai momenti annuali di dei convegni di urban dove il tema della partecipazione è di nuovo una struttura portante delle modalità di progettazione locale pensiamo ai bilanci partecipativi che sono un altro degli strumenti possibili ma anche spostandoci su un ambiente non esclusivamente pubblico la possibilità richiamando quel discorso del coinvolgimento degli stakeholder di intervenire come istituzioni locali sulla responsabilità sociale di impresa introducendo ad esempio requisiti premianti per normative che possano essere introdotte dalle regioni oppure dalle amministrazioni locali per quelle imprese che attivino percorsi di coinvolgimento di lavoratrici e lavoratori sulla qualità dei modelli di produzione o sulla qualità delle condizioni lavorative o sulla qualità delle condizioni di conciliazione quindi esistono strumenti volontari attivati attivabili esistono strumenti volontari anche a livello regionale ci sono alcune regioni la prima come capofila è stata la regione toscana ma anche l'Emilia Romagna ma anche l'Umbria che hanno introdotto proprio sul tema della democrazia deliberativa delle modalità di legislazione e di pratiche ora si sarà ascoltato che ho usato rispetto alla questione della partecipazione alcuni termini apparentemente in modo indifferente ma indifferenti non sono i termini sono democrazia diretta democrazia deliberativa democrazia partecipativa nel nostro linguaggio comune anche del dibattito nei movimenti come nel dibattito della delle formazioni politiche questi sono termini che ricorrono spesso e che però sarebbe bene riuscire a classificare in un modo più puntuale per orientarsi in maniera più precisa e quindi dare anche il valore e la potenza relativa a ciascuno degli strumenti che ho richiamato e di come quegli strumenti appartengono ad una famiglia o a un'altra di democrazia diretta deliberativa e partecipativa intanto partirei da questo dato partirei dall'apparente cortocircuito che esiste nel momento in cui tutti denunciamo la caduta della democrazia rappresentativa e l'eccesso del decisionismo governativo ma contemporaneamente poi dobbiamo rilevare che negli stessi strumenti delle istituzioni locali quelle che praticano il criterio del governismo c'è poi una costante ricerca di partecipazione perché questa quindi potrebbe essere la domanda perché si è sensibili alle spinte che provengono dalle comunità dalle collettività dei cittadini organizzati oppure perché si è pure in questo quadro contemporaneo consapevoli del fatto che la società pone questioni talmente complesse e talmente diversificate che non si può negare questa complessità e soprattutto non può essere risolta tagliandola come il nodo gordiano quindi bisogna trovare delle modalità da parte di chi governa che il più possibile sciolgano gli aspetti della complessità individuandoli nelle diverse componenti il più possibile trovino la modalità di ridurre i conflitti il più possibile pervengano a delle modalità decisionali che siano condivise e quindi più pacificamente accolte e assorbite questo mi pare il dato di realtà nel quale siamo immersi ora qui si aprono due scenari possibili una è quella della diffidenza e dell'alterità quindi assumere il fatto che queste determinazioni istituzionali siano opportunistiche e scegliere praticare altre strade non apro il capitolo della democrazia diretta qui oppure immaginare di praticarle e pensare che praticandole ci sia un interesse di emancipazione anche dei soggetti che le praticano e io propendo di più per la seconda opzione allora tornando al tema dei tipi di partecipazione allora noi abbiamo una modalità sia pure prevista tra gli strumenti che ho nominato fino a questo momento quindi non andiamo alle alle forme diverse abbiamo una modalità che è quella in cui il potere di iniziativa viene assunto direttamente dai cittadini quindi la forma più diretta ad esempio il fatto che le modalità di presentazione referendaria tenderebbero ad annullare la mediazione così non è perché la mediazione viene annullata nel momento dell'espressione del voto al referendum ma per arrivare all'ammissibilità del referendum la mediazione c'è quindi è uno strumento sì di democrazia diretta ma lo è nel momento della espressione delle volontà non nel momento del percorso di costruzione dello strumento abbiamo la democrazia partecipativa che ha molto scaldato parlo per me ma credo per molti altri qui presenti che ha molto scaldato i cuori e le possibilità e le fantasie di futuro perché sono derivate da momenti prevalentemente praticati in america latina tutta l'esperienza di Porto Alegre tutta la ricostruzione del valore della comunità dove la comunità non è una dimensione separata e rivolta a se stessa e dove il termine della cittadinanza non è legato ai criteri dell'appartenenza geografica e tanto meno a quelli dei requisiti anagrafici residenziali ma quelli di essere e le persone presenti in quel contesto interessate a cambiare positivamente quel contesto e impegnate a farlo quindi tutta questa tematica che riconduce alla scala più locale della democrazia partecipativa ed entrambe promuovono momenti di iniziativa diretta dei cittadini quelli che si propongono di raccogliere le firme per il referendum ma anche quelli che avanzano sulle scale locali esperienze di risoluzione dei problemi o di individuazione di governo dei beni comuni che nascono direttamente dalla intelligenza e dalla partecipazione della cittadinanza e poi abbiamo la democrazia deliberativa che molto spesso ha come motore come soggetto di attivazione il livello istituzionale e che tende a costruire una concezione trasformativa dello stato di partenza attraverso delle modalità dove il momento deliberativo cerca di condividere con i cittadini le soluzioni preferibile o quelle meno conflittuali quindi a seconda di come si assume l'iniziativa di come l'iniziativa è sottoposta a dei momenti di vincolo di controllo e quali siano gli esiti di questi percorsi noi possiamo riconoscerci in un in una modalità o un'altra di democrazia diretta deliberativa partecipativa dove la distinzione teorica anche in letteratura non è così puntuale ma che è utile per chi pratica la partecipazione popolare per individuare il contesto nel quale ci si muove e quali siano gli strumenti più favorevoli. Ora in questo quadro che appunto ci darebbe la possibilità di attivare la disponibilità individuale di gruppi di cittadini organizzati e non organizzati di partecipare all'interesse generale e quindi di formalizzare con le proprie pratiche il fatto che le decisioni non appartengono esclusivamente alla democrazia rappresentativa ma che questa deve almeno misurarsi con le istanze che provengono dalla partecipazione popolare in questo quadro ci sono sicuramente dei grandi non detti e alcuni di di questi temi taciuti possono dal mio punto di vista essere ricondotti ad esempio a queste questioni. È possibile avere una reale partecipazione popolare che modifichi l'atteggiamento di partenza del livello istituzionale o addirittura laddove il livello istituzionale non lo abbia ancora espresso integri il momento decisionale della giunta del consiglio comunale in una situazione di confronto che sia paritario cioè nel momento in cui ci si propone di condividere momenti vuoi di consultazione vuoi vuoi di costruzione di soluzioni per arrivare nella democrazia deliberativa ad assumere atti vincolanti per le istituzioni atti figli di questo percorso è vero che i soggetti che condividono quel processo hanno o acquisiscono gli stessi strumenti di conoscenza competenza tali da poter determinare quella decisione come una decisione in cui ci si possa riconoscere beh è evidente che qualunque processo è un processo di apprendimento quindi è evidente che si arriverà tutti diversi da come sia partiti quindi certamente c'è un elemento di apprendimento in questo percorso ma c'è anche un altro elemento che senza l'intera gamma dei diritti umani la partecipazione o è difficile o è impossibile quindi detto in altri termini se il momento della partecipazione diventa anche per coloro che vi aderiscono un elemento di selezione rispetto ai soggetti in grado di partecipare al percorso allora abbiamo un problema perché la partecipazione è uno strumento di emancipazione di democrazia se riesce ad includere e riesce ad includere se i soggetti partendo diversi non restano diseguali dal punto di vista delle opportunità quindi gli strumenti della partecipazione sono strumenti che mettono in capo a chi l'attiva e ne ha coscienza una grandissima responsabilità quella di considerare quel processo sempre come un momento di inclusione e sempre come un momento di informazione di cambiamento dei soggetti che vi partecipano ora che questo sia sempre presente nella volontà e nella consapevolezza delle istituzioni in alcuni casi può essere in altri non possiamo fare i processi agli intenzioni di tutti i livelli istituzionali di tutti gli eletti nei livelli istituzionali quindi questo può essere come non può essere dovrebbe essere però nella consapevolezza nella responsabilità dei movimenti di chi attiva questo percorso a partire da un impegno sociale e da una volontà di continuare a praticarlo quindi gli elementi che mi sembrano significativi sono questi due livelli di consapevolezza non necessariamente considerarli dei momenti opportunistici del potere ma entrare nella pratica di questi momenti farlo con quella diversità che il non potere ha cioè quello di essere assumendolo volontariamente responsabile di percorsi di inclusione e avere la presunzione e l'ambizione di farlo anche su temi apparentemente ostici nella comprensione ma sostanzialmente necessari per l'empowerment di un territorio e della cittadinanza ne cito uno l'audit del debito tutto tutto il momento in cui sono immerse le istituzioni locali e nazionali è quello della soggezione al debito e della necessità di ricercare delle forme compatibili di approvazione dei livelli europei ad esempio ma compatibili in termini cosiddetti di sostenibilità altro termine da prendere con le pinze e non c'è nulla di più materialmente vicino agli interessi di ciascuno e di ciascuno che conoscere come si sia formato il debito quali siano le ragioni che hanno indotto la formazione del debito quali siano gli strumenti che vengono agiti per il governo del debito stesso e come può essere cambiata l'uscita dalla condizione del debito quindi l'audi del debito è forse uno di quegli strumenti di partecipazione che più può sfuggire al controllo al controllo verticale che più può attivare le competenze locali e che più se a mio parere è necessario rispetto alla crescita politica del di qualunque livello di comunità è raro che l'audi del debito venga avviato dalle istituzioni quando viene avviato dalle istituzioni si prova a farlo nelle modalità di maggior contenimento e di minore accesso alle informazioni possibili l'audi del debito non è una proposta tecnica non è una proposta specialistica è un processo partecipativo ma soprattutto è un processo di auto organizzazione difficile perché comprendere come i mezzi che ci consentono di capire la vera natura di ciò che viene chiamato pubblico e di ciò che viene chiamato debito è uno degli interessi primari della sopravvivenza e dello sviluppo di una comunità quindi ci permette di ricostruire il passato di scavare nel presente ed immaginare un futuro diverso ecco perché l'audi del debito mi sembrerebbe una bella modalità di insegnamento dei nuovi consigli comunali e di relazione dei neoconsiglieri e delle neoconsigliere con con la loro comunità quindi in conclusione siamo dentro ad un contesto in cui avremmo bisogno di molta partecipazione la partecipazione possibile gli strumenti non sono stativi in quanto strumenti possono essere migliorati ma non sono stativi possono essere quindi praticati bisogna volerli praticare e per volerli praticare bisogna conservare ancora o l'illusione o la speranza lascio la scelta a ciascuno che si possano modificare le cose quindi ci possa essere ancora un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni tra i cittadini e la politica ora tutte le nostre indagini ci dicono che la percentuale di coloro che si fidano dei propri governanti è del 45 per cento forse l'indagine non è neanche così tanto aggiornata quella alla quale attingo quindi sembrerebbe che il livello di fiducia non porti a immaginare immediatamente una grande adesione ai percorsi partecipativi oltre al fatto che partecipare significa dare e significa dare su base volontaria proprio tempo e proprie energie quindi da questo punto di vista abbiamo gli elementi della difficoltà ma abbiamo anche gli elementi della possibilità e come detto la volta scorsa quando si incoraggiavano le neo elette i neo eletti ad esercitare fino in fondo il loro ruolo di rappresentanza in questo secondo appuntamento si potrebbe concludere con l'incoraggiamento al momento della partecipazione popolare rispetto a pratiche possibili che qualche cambiamento potrebbero indurlo grazie 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 grazie